Riaverendo, un'intervista a Callo, cosa pensa di un concerto interrotto dagli... Non ho niente da dire, non ho di interazioni da fare Ah, cazzo! E lei, brutto anarchico che non è altro Silenzio Io non posso esprimerti E tu, lama, cosa dici? Sono andati via sta in me No, sono ancora qui Sento puzza, puzza, puzza Boh Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti